bella ragazzi oggi la DRRCStat ha testato questo magnifico prodotto per la pulizia della RC, droni, radiocomandi e tante altre cose della Icky Solution RC Magic Cleaner è un pulitore per il modellismo dinamico made in Italy siete pronti? si parte! questo prodotto è veramente facile da usare è anche comodo da portarsi in giro mi raccomando seguite le istruzioni che ci sono scritte dietro quindi non tenere collegate batterie mentre si usa il prodotto agitare bene e poi spruzzare creare una schiuma che andrà a sgrassare tutto e se avete possibilità molto meglio utilizzare l'aria complessa ricordatevi anche che una volta finito di utilizzare il prodotto soffiato tutto non accendete subito il modello di droni aspettare che evapora non si sa mai chi sia rimasto del prodotto nel connettore o dentro al drone o la macchinina in modo da non creare cortocircuiti vari siete pronti? si parte! no! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.